Grazie a tutti quanti che siamo quasi riusciti a rientrare nel tempo che avevamo accumulato di ritardo, una precisazione anche per quanto riguarda ciò che ha detto sulla macchina di recupero, ovvero oltre 20 anni fa in alcuni casi quando era del tutto sconosciuta questa metodica abbiamo accettato di mettere in alcuni ospedali incomodato per la realtà macchine di recupero, però francamente oggi noi non consideriamo più una macchina di recupero un problema assolutivo per i testimoni di Gero, vediamo un po' di parlare al meglio i relatori che sia una cosa doverosa per la sanità pubblica, comunque per la posizione religiosa sulla macchina di recupero avrete modo di ascoltare anche nelle relazioni che adesso seguiranno qual è la posizione del testimone di Gero sia su questo, su alcuni modi rivanti, sulle albumine, su tutte altre questioni.